Perché, caro Signore, non sappiamo da che cosa si è fatto, ma ce lo sentiamo tutti qua come un'angoscia nella gula, il gusto della vita che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare perché la vita, nell'atto stesso che la viviamo, è così sempre ingorda di se stessa che non si lascia assaporare. Il sapore è nel passato che ci rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene di là, ai ricordi che ci tengono legati. Ma legati a che cosa? A queste sciocchezze qua? A queste noie? A tante stupide illusioni? Insulse occupazioni? Sì, sì, questa che ora qua è una sciocchezza. Questa che ora qua è una noia. E arrivo financo a dire, questa che ora qua, per noi, è una sventura. Una vera sventura. Sì, signori. a distanza di quattro, cinque, dieci anni. Chissà che sapore acquisterà. Che gusto queste lacrime? E la vita, per Dio, ha il solo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è in questione di giorni.